Ciao da Avsim, campionesse d'inverno come la Juventus maschile anche la Juventus femminile. Grande risultato per un punto soltanto ma è quello che basta. Ovviamente non è un trofeo però è un risultato importante perché dice che la Juventus Women sta andando alla grande in questa prima metà di stagione. Le ragazze hanno vinto quindi 5 a 1 al campo all'Enrichi Divinovo sabato 22 dicembre contro appunto l'Ellas Verona e adesso andranno a riposarsi qualche giorno godendosi il Natale, molte sono anche già partite per tornare in patria, le straniere ovviamente e chi è in Italia è comunque tornato a casa sua, sono tornate a casa loro e si rivedranno per il ritorno in campo il 6 gennaio. Quindi la Juventus Women torna in campo un po' prima rispetto alla Juventus maschile e ci terrà quindi impegnati con qualche altra partita da vedere. Da vedere per chi riesce a seguire le partite, perché come al solito la trasmissione in diretta è rara, rarissima, in questo caso non ha trasmesso Sky e quindi il mio post partita arriva tardi perché ho atteso prima di poter vedere gli highlights su Juventus TV. Ho chiesto per l'ennesima volta a qualcuno di Juventus TV, nello specifico Antonio Romano, su Instagram, se tornerà la piattaforma a trasmettere in diretta le partite della Juventus Women, ma ancora una volta non ho ricevuto risposta, non riceverò risposta fino a che non mi diranno di sì, ma non so quando accadrà. E dicevo chi invece riesce ad andare a vedere le partite, vi segnalo infatti i due gruppi Facebook linkati qui sotto, Dominio Bianconero e Juventus Women Supporters, a cui è importantissimo che tutti voi vi iscriviate, su entrambi i gruppi perché non sono soltanto dei gruppi virtuali per parlare di Juventus Women, sono ragazzi e ragazze che seguono ogni volta la Juventus Women, vanno al campo alle ricchi di Vinovo con gli striscioni, fanno i cori, sostengono la squadra e vanno anche a farsi tutte le trasferte. Quindi bravi, grazie per il sostegno alla Juventus Women, di cui sempre parlano anche le calciatrici, spesso dicono grazie ai nostri tifosi che ci seguono sempre e quindi è sempre una festa quando scende in campo la Juventus Women, soprattutto grazie a questi tifosi sistematici che partecipano sempre. E vi segnalo anche una nuova pagina che parla anche di Juventus Women, la guerrera bianconera, la guerrera juventina che è sempre linkata qui sotto. Parliamo allora della partita, dicevo 5-1, i gol sono stati 3 nel primo tempo, quindi finito 3-0, e altri 3 nel secondo tempo, di cui però uno dell'Ellas Verona. Un gol che hanno stigmatizzato sia Cecilia Salvai sia coach Rita Guarino nel post partita. Cecilia Salvai che però ha, tra virgolette, causato un leggero infortunio di Laura Giuliani perché proprio all'inizio, dopo 20 secondi dall'inizio della partita, con un retropassaggio troppo lento, ha costretto Laura Giuliani ad andare a contrasto con l'attaccante del Verona. Giuliani ha commesso fallo fuori area, è stata ammonita, ha preso appunto un colpo sul piede, è rimasta in campo qualche altro minuto, giusto il tempo di fare una buona parata, e poi è uscita lasciando il posto a Doris Bacic, che poi è stata corresponsabile proprio con Cecilia Salvai nel secondo tempo, ma direi che è più responsabile a Doris Bacic. Su quel pallone spiovente dal centrocampo, che appunto rimbalzava in maniera pericolosa, Doris Bacic è uscita troppo avventatamente, e quindi a quel punto l'attaccante del Verona ha depositato nella porta vuota per il 4-1, che poi è diventato 5-1. Però insomma, un gol che dovrebbe essere ininfluente anche nell'ottica di tutto il campionato. I gol sono stati di Barbara Bonanzea, nel primo tempo Bonanzea a Luco a Luco, Barun Bonanzea su assist di a Luco, un tiro di Bonanzea di destro, da dentro l'area, rientrando. Rientrata sul destro e attirata sul secondo palo, precisissimo, il portiere non ci è minimamente arrivato. Un grande gol di Barbara Bonanzea, che poi ha avuto un'altra grande occasione successivamente, sempre nel primo tempo, un po' sprecando. Ha tirato a lato, poteva fare meglio. A Luco, grande protagonista della giornata, ha segnato poi il 2-0 in un contropiede solitario. Ci ha preso palle, è andata dritto per dritto, poi ha tirato a tu per tu col portiere e ha fatto gol. Fortissima. Poi ha fatto il 3-0 su un cross di Bonanzea dalla sinistra, un cross di sinistro se non sbaglio, di Bonanzea dalla sinistra, un cross a mezza altezza e a Luco si è avventata prima di tutti gli altri e ha segnato. Anche questo è un grande gol. Nel secondo tempo ha fatto l'ennesimo gol spettacolare Benedetta Ionna, neo eletta vincitrice del premio Golden Girl 2018, meritatissima ancora una volta, fa solo gol belli, non sa fare gol brutti. ha tirato di sinistro dalla sinistra un bolide, un bolide, anzi ha tirato, credo che abbia tirato di destro, se non di sinistro, ha tirato di destro dalla sinistra da fuori area un bolide che si è andato a insaccare sul secondo palo. Un gol come l'aveva fatto da quest'altro lato, dal lato destro, sempre a Vinovo qualche settimana fa. E poi ha segnato dopo il 4-1, il 5-1 ancora una volta a Luco su azione solitaria dribblando anche il portiere. Si è avviata ancora una volta verso la porta, ha dribbato il portiere e ha depositato in porta di sinistro. Nel mentre ben 4 tiri in porta da parte di Cristiana Girelli, tutti pericolosi da fuori e da dentro area, è stata un po' sfortunata però ha cercato il gol tantissimo e si è distinta quindi anche lei con un'ottima prestazione. Allora siamo felicissimi di questa Juventus Women che ripeto tra l'altro ogni volta che vince, convince sempre, gioca pure bene ed è entusiasmante. Sono campionesse d'inverno, anche se ripeto non è un trofeo, però assaporiamo, diciamo, o continuiamo ad assaporare anche in questa in questa sosta natalizia e nel nuovo anno che inizierà da breve il primato in classifica. Ci rivediamo allora molto presto con video sulla Juventus Women, nel tempo che ritornino in campo pure loro e sempre, forza Juve! Grazie! 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 Grazie!